L'undicenne favarese Giovanni Suterasardo in finale attilascia una canzone, il seguitissimo talent show di Antonella Clerici. La finale del programma andrà in onda domani alle 21 e vedrà la partecipazione di nove finalisti. Giovanni Suterasardo ha cominciato ad approcciarsi fin dalla più teneretà alla musica ed ha sempre cercato di portare avanti nelle sue performance pezzi della tradizione swing, soprattutto di Michael Bublé, il suo cantante preferito. Giovanni Suterasardo in un'intervista dai nostri studi ha messo in risalto l'emozione per il traguardo raggiunto. Sto preparando al meglio, ho iniziato a studiare le mie canzoni che canterò in finale, spero di arrivare fino in fondo. Ecco hai detto la parola finale, hai già idea di quale pezzo portare, ti manterrai nella linea dello swing o cambierai totalmente lo stile. Questo non me lo posso dire, si scoprirà, sarà una sorpresa. Giovanni è allievo dell'Accademia Le Muse, la sua insegnante è Claudio Arizzo. Ha detta non solo mia, perché magari io ovviamente sono di parte, ma ha detta dei giudici, ha fatto delle esibizioni veramente eccellenti. Man mano si è sempre appropriato, ha fatto proprio questo repertorio swing, non solo Michael Bublé, anche Frank Sinatra, diciamo che per un bambino di 11 anni riuscire a far proprio questo repertorio, essere padrone della scena, essere veramente insomma un piccolo grande artista, non è facile e noi siamo felici di questo traguardo. Anche il sindaco della città di Favara, Rosario Vanganella, lancia un appello alla cittadinanza favarese per sensibilizzarla e televotare il giovane talento. Metterci tutti incollati sabato davanti al televisore, guardare Rai 1, ti lascia una canzone e dopo aver sentito il nostro carissimo Giovanni che è stato brillando, un ragazzo che si è fatto strada davvero, che è stato apprezzato da tutti, dalla giuria e anche dai cittadini, dai telespettatori che lo hanno votato. Allora siccome io credo che Giovanni abbia tutte le qualità per vingere questa edizione di ti lasci una canzone, non solo perché si tratta di un nostro concittadino, ma soprattutto perché si tratta di un nostro concittadino super, non lo posso dire perché in italiano stoppia, ma lo dico per capirci, super bravissimo e allora finita di ascoltare la canzone, o meglio, mentre ancora sta cantando, mettiamoci accanto tutti i telefoni che abbiamo a casa nostra, chiamiamo la Rai e votiamo Giovanni. Solo così, con il consenso e con la partecipazione di ciascuno di noi, Giovanni può vingere questa edizione di ti lascio una canzone. Allora tutti ingollati al televisore, tutti pronti con in mano due, tre, quattro telefonini, cellulare, il telefono di casa, votiamo, votiamo a massa Giovanni.